Ad ottobre Microsoft interromperà il supporto per Windows 10. La scelta migliore laddove sia possibile è quella di passare a Windows 11. E se la mia macchina non è supportata? Proprio cinque giorni fa è uscita la nuova versione di Flyby 11 che promette miracoli e li fa anche. Ti senti pronto? Iniziamo! E come prima cosa ci andremo a procurare gli strumenti del mestiere per l'installazione. Di questa ISO non ci serve assolutamente nessun pendrive, ma ci servirà semplicemente una ISO originale di Windows 11 e uno strumento che si chiama Flyby 11. Apriamo il nostro Google Chrome e nel motore di ricerca andiamo a digitare Gentiluomo Digitale. Facciamo riferimento al primo risultato. Portiamoci qui in alto nella sezione Downloads. Scendiamo un pochino più in basso fino ad individuare questo download qui, quello che si chiama Flyby 11. Potremo aprirlo nella nostra cartella Downloads, ma questa volta ci servirà anche un secondo file. Quindi andiamo qui in alto nella barra di ricerca di Google e andiamo a digitare questa volta Windows 11 ISO. Effettuiamo la nostra ricerca e facciamo riferimento al sito ufficiale Microsoft e scendiamo un pochino più in basso fino ad individuare. Scarica l'immagine disco di Windows 11 ISO per dispositivi bla bla bla. In questa finestra a tendina andiamo a scegliere Windows 11 ISO Multi edizione. Clicchiamo sul pulsante Scarica ora. Dopodiché ci chiederà di selezionare la lingua del prodotto e confermo con l'apposito pulsante. Vedremo comparire 64 bit download. Facciamo un clic. A questo punto potremo portarci qui in alto, fare clic sulla voce Downloads e cliccare su questo pulsantino qui. La prima cosa che faremo sarà ad estrarre il nostro Flyby 11. Clic destro. Estrai tutto. Clicchiamo sul pulsante Estrai. Doppio clic sul file eseguibile, quello che si chiama proprio Flyby 11, seguito da un clic sulla voce Esegui. Andremo a prendere questa ISO e la trascineremo all'interno di questo rettangolone grigio. Dopodiché ci viene chiesto di autorizzare l'esecuzione di PowerShell e partirà l'installazione di Windows. Fai clic sul pulsante Avanti. Appena ti comparirà questa finestra clicca su Accetta e scegli di conservare i file, le impostazioni e le app. Clicchiamo su Avanti. Quando ti comparirà questa schermata clicca su Installa e attendi alcuni minuti. Ebbene sì, ce l'abbiamo fatta. Alla prossima!